Questo evento è veramente molto attrattivo, è molto attrattivo e dà lustro e luce a questo borgo, meraviglioso borgo di Montemaggiore, con questo evento rodato che attira sul territorio centinaia, sono migliaia, perché anche l'anno scorso era qualcosa poco meno di un migliaio di persone che si sono presentate a questa iniziativa, che grazie al proloco di Montemaggiore, grazie al mio assessorato di Tadei Francesco che segue queste iniziative, anche quest'anno in vista di quello che sono una visibilità maggiore del nostro territorio, grazie anche a Pesaro 2024, è stata arricchita di ulteriori eventi che poi saranno loro a spiegarvi in maniera più dettagliata. Si tratta di un percorso enogastronomico che consiste in cinque portate accompagnate da cinque calici di vini, delle cantine del nostro territorio. È un percorso che si snoda in tutto il nostro borgo, queste portate saranno servite in punti più belli, più caratteristici del nostro centro storico. Per tutta la durata della cena ci sarà una filo di fusione con brani scelti da Emilio Rossi DJ, mentre dalle 22.30 poi si cambia ritmo grazie al DJ set Weekend Dance, cura di Corrado Cori e Roby Revolution, dove tutta la piazza Bramante, che è la piazza principale del nostro centro storico, si trasformerà in una bellissima discoteca a cielo aperto. Per la prima volta Spasso nel Castello sarà un evento AIC. Questo cosa significa? Che tutte le persone intolleranti al glutine, le persone celiache, avranno anche loro modo di avere il loro percorso enogastronomico, in quanto i loro piatti saranno cucinati da due ristoranti certificati AIC. Grazie a tutti.